La dama è un gioco da tavolo per due giocatori che si svolge su un tavoliere speciale chiamato damiera. Lo scopo del gioco è catturare tutti i pezzi dell'avversario o fare in modo che non possa più muovere. Per cominciare, ciascun giocatore sistema i propri dodici pezzi, o pedine, sulle prime tre file del proprio lato. Su ogni fila devono esserci quattro pedine, tutte posizionate su una casella scura. Dopodiché, i giocatori muovono a turno, spostando i pezzi in avanti e in diagonale sulle caselle scure. Non è possibile muovere le pedine sulle caselle bianche, né farle andare all'indietro. I pezzi vanno spostati con lo scopo di mangiare quelli dell'avversario, saltando sopra di essi in diagonale. Per poterlo fare, la casella scura oltre la pedina avversaria deve essere libera. Quando un pezzo viene catturato, va rimosso dal gioco. Se è possibile mangiare un'altra pedina, di seguito alla prima, il giocatore deve catturare anche quella. Se una pedina raggiunge l'ultima fila sul lato opposto della damiera, diventa una dama. Va contrassegnata mettendo un'altra pedina dello stesso colore sopra la prima. Le dame possono muoversi sia in avanti sia all'indietro, ma devono rimanere sulle caselle scure come gli altri pezzi. Il gioco finisce quando un giocatore vince rimuovendo tutti i pezzi dell'avversario o rendendo impossibile all'altro muovere una pedina.